E adesso vediamo chi è la mamma più bella d'Italia. Hanno sfilato a Bellaria e Gena e Riminese con abiti eleganti e costumi da bagno le mamme delle nostre regioni per conquistare il titolo di più bella d'Italia. Per partecipare è necessario avere un'età 325 di 45 anni. Arrivata alla 28esima edizione, il concorso ha consegnato la corona alla bionda Silvia Palamà, 30 anni, scelta tra 38 mamme italiane. In 19 sono arrivate in finale e Silvia, originaria di Calusco Dadda, in provincia di Bergamo, libera professionista che si occupa di risorse umane all'interno delle aziende, ha voluto dedicare la sua vittoria al piccolo di casa. Perché lo scoccare della mezzanotte ha compiuto nove anni, quindi a mio figlio. Io l'ho visto in questo concorso e noi mamme siamo proprio unite, siamo tutte vicine. Eleganza, abilità, bellezza, tre parametri per valutare qual è la migliore mamma italiana. Nel concorso non intende premiare solo la bellezza, ma valorizzare il ruolo della donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Tutte le partecipanti hanno poi sostenuto una prova di ballo, canto e di altre attività creative. Ed ora già si pensa alla prossima edizione. La Miss Mamma italiana del 2022 è la mamma della rinascita, per cui chiediamo alla nostra Miss Mamma italiana 2022 di poter portare un sorriso di speranza, d'amore e di grande gioia in tutte le famiglie italiane.